La nostra è una corsa sul filo, ma è una corsa che possiamo vincere. Costruire un'Expo è veramente costruire qualcosa di complicato, forse è la manifestazione più complicata al mondo, perché è le Olimpiadi, voi vedete in fondo il programma lo si sa, sono i 15 giorni, le gare sono quelle, lunedì, mercoledì, venerdì, mentre l'Expo dura 6 mesi. Ieri l'Ansa ha battuto che i PM hanno sentito per oltre 5 ore una persona a lei molto vicina in passato, ha un commento a riguardo? No, nessun commento. Sempre convinto di farsi sentire non prima di settembre dai PM? Come hanno detto i suoi legali? Prima di settembre, i PM hanno spiegato bene le motivazioni e le ragioni, quindi hanno parlato loro, non è necessario ripetere qualche loro antezza.